Buongiorno a tutti. I temi che il 2021 ci pone alla nostra attenzione sono scontati. Veniamo da un anno molto particolare che ha segnato profondamente quello che è stato l'impegno di noi sindaci e di tutti gli amministratori del territorio. Le problematiche non sono superate, anzi viviamo una fase dove ci dobbiamo ancora interrogare sullo sviluppo ulteriore, sull'attenzione che dobbiamo dare per uscire fuori da questa situazione molto complessa che ci troviamo tutti quanti a gestire. Speriamo di farlo il più in fretta possibile, speriamo di poter tornare quanto prima ai temi fondamentali che riguardano la collaborazione e la coesione di un territorio e i suoi rapporti con gli enti di riferimento, così come le zone territoriali omogenee intendono svolgere il loro ruolo, il loro compito nei confronti di città metropolitano. Un interlocutore importante, uno strumento di collaborazione fondamentale per poter risolvere i problemi delle nostre comunità così raggruppate nelle zone territoriali. Certamente i temi dello sviluppo e della ripresa saranno quelli che speriamo di poter affrontare nel 2021 e di poter in qualche modo mettere in agenda il primo posto. Questo lo dobbiamo fare continuando con lo spirito di coesione e di unione che anche la nostra zona territoriale ha dimostrato in questo anno, molto difficile e molto complesso, ma dove tante iniziative e tante valutazioni si sono potute operare grazie alla collaborazione, allo spirito che gli amministratori dei nostri territori hanno condiviso in tante occasioni. Quindi per far nostre le parole del nostro Presidente Mattarella, i costruttori, il periodo dei costruttori e anche il periodo dei costruttori di relazioni, di attività, di sviluppo, di tutto quello di positivo che i cittadini si attendono dagli amministratori, dai politici in generale, ma da chi ha compiti di responsabilità. E fra i costruttori mi piace ricordare che ci sono anche i sindaci del territorio e gli enti prossimi di collaborazione come città metropolitana, con la quale contiamo di avere, di continuare un rapporto di collaborazione, un rapporto di confronto improntato sulla necessità di riportare le nostre esigenze e di crescere come comunità, così come abbiamo con difficoltà ma costantemente fatto anche in questo anno terribile 2020, ma di crescere ancora di più nel 2021 con uno spirito di coesione e di volontà reciproca di collaborazione e di ricostruzione che ci faccia superare questo momento e ci faccia guardare a quelle che sono le prospettive di un prossimo futuro più roseo e più importante dal punto di vista dei risultati.